e quindi quando inverti tu devi farlo qui qua, qua c'è perchè l'hai bloccato subito mi tocco subito qua e poi andrò qua questo lo devi allontanare con calma si questo è qui, no? esatto io da qua, inverto ma lo porto subito subito vedi, anche se tu provi a ripiare il braccio eh, comunque vedi, mi offri sempre un articolo qualcosa qua è stato diventato in realtà esatto e ragazzi il bacino ragazzo, qua c'è questo, il mezzo con il bacino qua c'è eh, esatto qua non c'è, ma piano piano non lavoro qua non c'è ancora eh, ma qua si c'è non c'è perché non c'è, non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è, non c'è non c'è, non c'è non c'è, non c'è non c'è perchè mi hai detto il peso tuo sul braccio e per aumentare il peso sul braccio ci devi alzare il sedere ma appoggio con la spazio e faccio questo esatto faccio questo ci smazzo il peso sul cuore esattamente e tu la, anche se non lo sfidi più perchè c'è tutto tutto il peso sul braccio si cioè il discorso diventa isolato il braccio e tu non sali poi decidi come venire a usare però tutto parte da isolato il braccio e lì col bacino si una volta che hai isolato poi ce l'hai le finalizzazioni qua vado mano a terra subito mano a terra esatto no no, qua esatto esattamente da qua subito cosci il sedere esatto e in altra posizione su gira il bacino qui ecco qua ah ma questa mano sulla spalla me la lega esatto e ok se da qua uuuh piante che rimane se da qua gira il gomito qua c'è l'americana americana sempre uguale sempre uguale eh se mi dice giro il contrario esatto e voi che dico a questo esatto e poi c'è elaborata però se riesci a bloccarsi subito il braccio atterra subito dentro ma no no appena inverti subito direi al sarbacino se non è così se non è così americana c'è si qua c'è eccoci è arrivato qua e tu la prendi subito la mano va da qua qua cambio uno due ecco ecco io tu ti è sempre esatto il ginocchio vale io e facci questo le stagioni trafè non mi senti più a stasso qua riesci a respirare hai esatto e risate il primo però però questo riesca a andare non ci è ne è esatto appena cambi base che fai questo giugno di torno sopra appena inverti appena inverti subito sopra appena cambi base subito sopra abbassa la gamba ci riserva per esempio adesso non c'ho la leva vedo come si sta pizzicando qua qua